le sorprese della scienza. Avevo ben capito che l'amico Tucci, nell'invitarmi con quelle sue calorose e pressanti lettere a passare l'estate a Milocca, in fondo non desiderava tanto di procurare un piacere a me. Quanto a se stesso, il gusto di farmi restare a bocca aperta mostrandomi ciò che aveva saputo fare, con molto coraggio, in tanti anni di infaticabile operosità. Aveva preso, a suo rischio e ventura, certi terreni paludosi che ammorbavano quel paese e ne aveva fatto i campi più ubertosi di tutto il circondario. Un paradiso. Non mi faceva grazia nelle sue lettere di nessuno dei tanti palpiti che quella bonifica gli era costata e di nessuno dei tanti mezzi escogitati, dei tanti guai che gli erano diluviati, di nessuna delle tante lotte sostenute, lui solo contro Milocca tutta, lotte rusticane e lotte civili. Per invogliarmi forse maggiormente, nell'ultima lettera mi diceva tra l'altro che aveva preso in moglie una saggia massaia, massaia in tutto, otto figliuoli in otto anni di matrimonio, due a un parto e un nono per via, che aveva anche la suocera in casa, bravissima donna che gli voleva un mondo di bene e anche il suocero in casa, perla d'uomo, dotto latinista e mio sviscerato ammiratore. Sicuro, perché la mia fama di scrittore era volata fino a Milocca da che, in un giornale, si era letto non so che articolo che parlava di me e di un mio libro, dove c'era un uomo che moriva due volte. Leggendo quell'articolo di giornale, l'amico Tucci si era ricordato ad un tratto che noi eravamo stati compagni di scuola tant'anni, al liceo e all'università, e aveva parlato entusiasticamente del mio straordinario ingegno a suo suocero, il quale subito si era fatto venire il libro di cui quel giornale parlava. Ebbene, confesso che proprio quest'ultima notizia fu quella che mi vinse. Non capita facilmente agli scrittori italiani la fortuna di vedere la faccia da bene di uno dei tre o quattro acquirenti di qualche loro libro benavventurato. Presi il treno e partii per Milocca. Otto ore buone di ferrovia e cinque di vettura. Ma piano con questa vettura? Cent'anni fa, non dico, sarà anche stata non molto vecchia. Forse qualche molla cent'anni fa doveva averla ancora, anche se tre o quattro razzi delle ruote davanti e cinque o sei di quelle di dietro erano di già a torti di spago. Così come si vedevano adesso. Cuscini, non ne parliamo. Là, sulla tavola nuda, e bisognava sedere in punta in punta per cansare il rischio che la carne rimanesse presa in qualche fessura, giacché il legno, correndo, sganasciava tutto. Ma piano con questo correre, doveva dirlo la bestia. E quella bestia lì non diceva nulla. S'aiutava perfino col muso a camminare. Sì, centomila volte sì. Scambio dei piedi. Voleva metterci le froge per terra. Come ce le metteva? Povera decrepita Rozza. Tanto gli zoccoli sferrati le facevano male. E quel boia di vetturino, intanto, aveva il coraggio di dire che bisognava saperla guidare, lasciarla andare col suo verso, perché ombrava, ombrava e, a frustarla, ritta, gli si levava come una lepre, certe volte, quella bestiaccia lì. E che strada! Non posso dire di averla proprio veduta bene tutta quanta, perché in certi precipizi vidi piuttosto la morte con gli occhi. Ma c'erano poi le pettate che me la lasciavano ammirare per tutta un'eternità, tra i cigolii del legno e il soffiar di quella ruzza sfiancata che accorava. Da quanti mai secoli non era stata più riattata quella strada? Il pan dalle vetture è il brecciale, mi spiegò il vetturino. Se lo mangiano con le ruote. Quando manchi il brecciale si mangiano la strada. E se l'erano mangiata bene? Oh, quella strada. Certi solchi che, a infilarli, non dico, ci si andava meglio che in un binario, da non muoversene più però, badiamo. Ma a cascarci dentro per uno spaglio della bestia si ribaltava come vero Dio ed era grazia cavarne sano l'osso del collo.